Ormai si sa, lo sapete, le opere d'arte si rivelano, si rivelano e come? Noi abbiamo potuto darle cassa di risonanza, amplificazione, ma sono stato un po' maluccio, non ho potuto, un po' di pausa, ma io sento le loro voci certamente, le sento anche da lontano, lontano, ora non sono molto lontano dal seminatore e la donna con la quartara. Le opere d'arte si rivelano per le anni di trascuratezza o purtroppo anche la gente è stata un po' zitta, non li ha difeso adeguatamente, insomma è così, io mi riprenderò, come se riprenderà Campobello Delicata, mi sto riprendendo, grazie Silvia che mi stai riprendendo, sono vicino a un geranio, poveraccio, ha sofferto la calura, l'acqua, ma se riprenderà pure lui dal nostro balcone. Guarda Silvia, là via Umberto che passa per il palazzo La Lomia, gli amici, abbiamo fatto teatro, abbiamo fatto sposto e là in fondo c'è via Edison, e Silvia, che abbiamo visto giorni fa? Che passavano i carri? La Rietina, c'era l'estate Campobello, pochi giorni fa. Questo via La Lomia, là in fondo, all'Imbrunile c'è piazza 20 settembre, la chiesa madre, se uno cammina un pochettino c'è una banca, c'è la sede del PD, di fronte c'è il municipio, e tra poco io spero, finalmente, che si possa restaurare quel murales che era un omaggio, un canto a Campobello delicata, per una volta era animata questa piazza Silvia, c'era la cia rosa, i biscotti, il bar dei ferrovieri, tante tante cose, e poi ci sono gli amici del giornalaio, che è l'unico che vende libri, ma se ci arriva, le opere d'arte si rivellano. Guarda, io ho solo cartoline ora, perché siamo qua nel nostro balcone, a via Crispi, Campobello delicata, settembre, settembre che? Sì, settembre, 3 settembre, la fontana delle bambine, che dicono la fontana delle fanciole, Piazza Aldomoro, Piazza Aldomoro, sono più contenti, hanno la vasca, ma attendono i bronzi di elevarsi un pochettino di patina, di trascuratezza, si farà, si farà, e qua guarda com'è, io, abbiamo solo cartoline, ma domani scendiamo, ci andiamo, le opere d'arte si rivelano, basta, per piacere, la donna con la quartara, madre di Campobello delicata, era bella, adorata nel suo bronzo, i bronzi che ho fatto io, i primi, nell'agricentino, bene, arrivederci a presto.